Un nuovo televisore per tutte le camere, 15 in tutto, e una macchina fotografica e telecamera Reflex. E' la donazione dell'associazione Nessun Uomo è un'isola al reparto di chirurgia dell'ospedale San Biagio di Domodossola, per un valore complessivo di circa 3.000 euro. L'esigenza principale a cui questa donazione viene incontro è quella di avere un buon comfort dei pazienti e qui entrano in ballo i televisori perché ne avevamo certi che non erano assolutamente moderni e quindi abbiamo potuto adottare tutte le camere di questi televisori per i pazienti, per i parenti. Per quel che riguarda invece la macchina fotografica, è un'esigenza nostra particolare di poter scattare delle fotografie anche a distanza molto ravvicinata e quindi poter conservare delle immagini per seguire l'evoluzione delle terapie. Avevate già una macchina fotografica di questo tipo, quindi Reflex di ultima generazione in dotazione o è la prima? No, questa è una macchina con delle caratteristiche molto particolari che non avevamo ancora. Non è la prima donazione dell'associazione Nessun Uomo è un'isola rappresentata dal presidente Claudio Limontini e da Andrea Padulazzi che hanno espresso la loro soddisfazione ai nostri ospedali. Il sudalizio diverse volte è stato impegnato nell'acquisto di arredi ed apparecchiature con la collaborazione dell'associazione Cuochi VCO Alto e Basso Novarese grazie a cene benefiche organizzate insieme. A seconda delle esigenze espresse dai sanitari, i diversi acquisti. Nuove donazioni sono in programma prossimamente, in particolare di un macchinario e di un monitor per le sale operatorie.